Casa dolce casa. Nel giorno del ritorno al Riviera di Palladini allenatore, la Samb torna a vincere davanti al suo pubblico, superando il Giulianova ultimo in classifica. Finisce 2-0 al Riviera delle Palme, con i rosso-blu che consolidano il loro primato nel girone F, salendo a quota 22 punti. Palladini conferma il 4-3-3 che ha espugnato i Zerni a sette giorni prima, ma soltanto dalla cintola in su. In difesa trovano spazio gli under Pino, esordio stagionale e Flabioni. Formazione dall'età media bassissima, quella del Giulianova di Giorgini, che a San Benedetto si ritrova in svantaggio dopo soltanto 10 minuti. Titone si inventa una giocata da applausi e pesca bombissuto in area di rigore. Il sinistro dell'attaccante siciliano viene deviato dal portiere in uscita, poi ci pensa Palumbo a buttarla dentro. 1-0. La Samba fa il gioco e quando vuole accelera sugli esterni. Titone e Palumbo sono indiavolati ed anche quando si scambiano di posizione si rendono pericolosi. Poco dopo la mezz'ora arriva il raddoppio. Titone riceve da trofo e si fa più di 30 metri palla al piede. Salta un difensore e viene atterrato dal secondo. Calcio di rigore ed ammunizione per Perucca. Dal dischetto si presenta Barone che realizza il 2-0. Il Giulianova è in confusione, tanto che già al 35esimo del primo tempo Giorgini è costretto ad effettuare il primo cambio della gara. Dentro Mastrilli per Perucca. Nella ripresa i rosso-blu gestiscono il doppio vantaggio senza troppa fatica. All'ottavo Barone sfiora addirittura il gol da centrocampo sul rinvio di Zaccagnini, il numero 4 della Samba Calcio di prima intenzione. Traiettoria quasi perfetta che termina però sopra la traversa di pochissimo. Il punteggio non cambia più. La capolista batte 2-0 l'ultima della classe e al Riviera si torna a far festa.